Sei stato preso di mira! Lisa, credevo che non avresti detto nulla! No, io ho semplicemente detto che non ho tempo per certe stupidaggini. Così li ho passati a Lynn, il cui cervello ha molto più spazio del mio per questo tipo di cose. Grazie! Aspetta! Lynn, che cosa stai facendo? Verso la terra per fare motocross! Dammi quel secchio! Ehm, prendilo! 57, 58, 59... Basta con la chitarra! Basta battaglie! Basta motocross e basta esperimenti scientifici! Allora sei uguale a lei! Lori! Calcio basso ninja! Ecco come lo metterei al tappeto! Giuntiamo autoattacco! Come si gioca? Io ti colpisco ogni volta che io vedo un'auto! Tempismo perfetto! Vieni, premi questo! Ehi, Lincoln! Questo è veloce! Bella presa, Lincoln! Bel tiro, Lynn! Ehi, fratellino! Stavo giusto pensando! Con tutta la pressione che hai per decidere... Forse un massaggio ti aiuterà a rilassarti! Ah! Che strano massaggio! Un po' più giù, Lynn! Concentro tutto lo stress sul fondo della schiena! Ah! È la presa del cambello! Se il calcio ninja non bastasse... Ciao, Lincoln! Oh, ciao, Lynn! Sai per caso cosa ho promesso a... Forza, dobbiamo andare! Dove? Lynn, ma che succede? Oh, ehi, ma... Che stai facendo? Faccio kickboxing! Hai detto che mi avresti fatto da sparring partner! Ricordi? Davvero? Voglio dire... Certo, me lo ricordo! Per caso tu sai cosa... Oh, deve fare Lola! No! Perché? Ho promesso che avrei fatto qualcosa per lei, ma... Non ricordo più di chi si tratta! Cosa? Cerca di ricordarti! Sai cosa succede quando Lola si arrabbia? Ricordi quella volta col budino? No! Quello era l'ultimo budino, vero? Come? L'ultimo? Può essere? Non fa niente, pazienza! E' tutto questo per un budino! Già, e guarda qui! E questo che cos'è? Tacco con sorpresa! E' una mia invenzione! Lynn, non voglio fare a botte, io... E va bene, vorrà dire che me ne occuperò io! Un altro grosso vantaggio? Lo spazio è tutto mio! Lynn, tutto bene? Non posso più condividere la stanza con la duchessa delle tenebre! Posso dormire con te questa notte? Ti direi di sì, ma non è una camera per due, capisci? A malapena riesco a dormirci io! È piccola, angusta e logobre! Mi toccherà dormire nella vasca da bagno! Ottima idea! Problema risolto, notte! D'accordo, puoi restare qui, ma soltanto per una notte! Grazie mille! Un pugno-pegno! E' soltanto una notte! Che cosa potrà succedere? Molto bene, dobbiamo prima stabilire delle regole di base! Primo, le mie cose non si devono toccare! Stavo dicendo... No, questo mettiamolo via, ecco! Attenzione! No, ti prego! È il mio coniglietto! Oh, ti ho preso! Tutto ok, piccolino? Peccato non ci siano palloni qui in camera tua! Non dico tanto un pallone da calcio, da basket, niente! Ma per fortuna ho portato i miei! Accidenti se è tardi! Andiamo a dormire e non pensiamoci più! Ma è presto! E poi c'è qui la tua nuova compagna a distanza! Sì, ma... Lucia, lebre! Non vedo niente! Ed ecco l'intuffarsi dalla terza corda del ring! Eh, cosa? Non sento più niente! Uno, due, tre! Hai perso! Sì! Linus è il nuovo campeon del mondo! Possiamo andare a dormire! Di sicuro è meno doloroso! Non sei scelto di dormire accanto a me? Pugno pegno! Che stai facendo? Scusa, non riesco a dormire! Beh, nemmeno io! Potresti smetterla? Scusa, non riesco a dormire! Ehi, ragazze! Facciamo una nuova fotografia! Una nuova fotografia? Non se ne parla! Sei pronta, Lin? Va a prenderla! Brava, Lin! Stai lì! Ahi! Lucia, lebre! Tutto bene! Ehi, Lin! Leggi com'è l'ultimo fumetto di Ace Savvy? A, i fumetti sono noiosi! B, metti i pantaloni! Ci vediamo più tardi, Lin! Dove caspita sono i miei pattini? Devo giocare a hockey su prato! Aspetta! Non si usano i pattini nell'hockey su prato? È il modo in cui gioco io sì! Lincoln! Ehi, Lin! Ti leggo una poesia! Si chiama Spazio! Spazio, cupo e profondo! Come il mio cuore, Spazio! Tutto il mondo è senza umore! Questo sono io, Lin! Non mi offenderò se non vorrai più dormire nel mio letto! Oh! Questa è la migliore imitazione di Lucy che abbia mai visto! Sei troppo, Spazio! Campion del mondo è l'incollato! Uno, due, tre! Hai perso! Sì! Ehi, così non vale! Non mi piace questo gioco! Senti che puzza! Ok, può bastare! Sei tu il miglior compagno a distanza del mondo! Mi trasferisco definitivamente! Questa è veloce! Dov'è la mia mazza d'occhi su prato? Oggi è il terreno di pattinaggio! Non c'è la mazza d'occhi su prato nel pattinaggio! Non vado in cui pattino io sì! È ora di alzarsi, Lily! Abbiamo un sacco di cose da fare! Si prepara il battitore numero due! Lily Loud! Cosa? Oh! Lynn, cosa stai facendo? Non sei l'unico della nostra famiglia a non avere nessuno con cui giocare! D'oggi in poi Lily farà sport con me! Senti, Lily gioca con me e la rivolgo indietro! Guarda che non è tua! E poi lei vuole già stare con me! Lynn Loud! Basket! Canestro! Non parla, Lynn! Non parla! Due punti! 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 Zalto della porta! Zalto della porta! Lynn invece mi ha passato... Le ringrazierai ai calci di rigore! Che schifo! Che cosa è successo, Lynn? Mi hanno cacciata da tutte le squadre in cui gioco perché vado male a scuola! Ma com'è possibile? Lisa ti dà ripetizioni! Prima forse! Ma poi un giorno ha deciso di ritirarsi da scuola e di andare a lavorare alla pompa di benzina! Cosa ha fatto? Senza lo sport la mia vita non ha più alcun senso! Una pausa! Attenti! L'ho presa! Sei un mostro, Clyde! Giochiamo un po'! Vicino a spalle in arrivo! Oh, che cos'è? Eh, sono capelli presi dal lavandino! Un'attima falla, vero? Ah! Eh, ciao, Lynn! Non posso parlare, Lincoln! Mancano soltanto poche ore alla mia grande gara! Quale grande gara, sorellina? Di acrobazie con la bici! E pensi di usare la tua bici? Ovvio! Su, spostati! Devo perfezionare le mie lunghe impennate! Io non lo farei! Cioè, da quanto tempo non fai controllare la tua bici? Non lo so! Qual è il problema? Non pensi alla tua sicurezza! Io sì! Ed è per questo che la farò controllare io per te prima della tua gara! Lincoln! Io insisto! Tornerò prima che tu possa dire unghie sbeccate! L'unghe impennate! Giusto! Quelle! Che cosa ha detto? Di togliervi di mezzo! Ehi! Puoi coprirmi per oggi? La squadra ha comprato una nuova macchina a spara palle e se non colpisco la prima palla avrò sfortuna per tutta la stagione! Sì, certo, capisco! Grazie! Faccio le pulizie appena torno! Che cosa hai fatto? Come faccio con la gara adesso? Mi dispiace molto, Lynn! Per quale motivo hai preso la mia bici? Non volevo che mi vedessero con la bici usata di Lori! Ehm, pronto! E pensi che la mia sia diversa e di seconda mano? È così! È vero! Era la mia prima bici! Ciao, Lincoln! Ti vedo diverso! Non ho più le basette irregolari! No, non è solo quello! La tua pelle è splende, sembri più alto e profumi... Di cavolini di Bruxelles! Allora, che succede? Ho passato la serata da Clyde! Mi hanno aiutato a fare il vulcano, servito cibo senza stagnola e chiesto com'è andata la giornata! Sono serio? È davvero fantastico! Ma secondo te mi aiuteranno con il giro di mazza? Certo! Clyde mi ha detto che uno dei suoi papà giocava a baseball! Perché non vieni domani dopo la scuola? Oh sì, sarebbe stupendo! Ah, Eileen, vuoi fare piano? I papà di Clyde mi hanno appena fatto i vaccini! A presto! Fate i bravi! Non posso crederci, il signor McBride mi ha allenata per un'ora intera! Per non parlare della cena! Cos'è quella cosa speciale che hanno cucinato? La carne? Sì, era buonissima! Ti darei un pugno se non avessi fatto i vaccini! Ah! Te lo doi! State lottando! Che bello! Lola! Esageri con la violenza! Beh, se la merita tutta! Volevo aiutarlo a evitare di giocare a football e per colpa sua la mia macchina è un rottame! E ci avevo appena messo il diodorante al cioccolato! Un momento, fammi capire bene! Davvero non vuoi giocare a football? Il football facca! È quello che pensi tu! Io non so nemmeno come si gioca! Inoltre temo di essere troppo debole! Su questo non c'è dubbio! Adesso basta! Vai negli spogliatoi! Forse hai dimenticato che hai un'arma segreta! Me! Posso insegnarti tutto quello che so sul football! Ehm... D'accordo! Ora, Tara, ne voglio venti! Ne ho soltanto cinque! Ehm... La festa delle famiglie è stasera e non abbiamo niente per il talent show Ci sono, ci esibiamo al trapezio tutti insieme Il fatto che tu ti sia già rotta tutto dalla mascella al metatarsio non significa che lo vogliamo fare anche Beh, basta con le ciance, devo comunque andare alla gara Ci andrai con quella Non ho altra scelta, non credi? Non posso credere che abbia funzionato, manca una sola partita Mi mancherà tutto questo A me non mancherà affatto Limpi, yeah, yeah, clienti del negozio Lynn! È spulsione, è spulsione! Ah, grande! Ah, ah, atterraggio morbido Ah, per te, forse Eh, cos'è questo faro negli occhi? Perché non lo ammetti, Lynn? Sei tu l'intasatrice Mi sa che la calzamaglia non ti fa arrivare ossigeno al cervello Oh, sì? Allora dammi una spiegazione per questo Nessuno può mangiare tanti panini e non fare alcun danno alle tubature Che intuizione, genio! Ma la mia squadra di Dollar Derby gioca stasera e non sgancio mai la bomba prima di un evento Per tua sfortuna! Sono già due volte che rimando pur di conquistare il primo posto Che schifo Se vuoi sapere chi ha intasato il gabinetto Perché non lo chiedi a Lisa? Tiene un registro sulle nostre abitudini in bagno È molto precisa In posizione, pronti, lancio! State indietro! Lasciatelo respirare Lynn? Chi è Lynn? Credevo fossi Lincoln No, sono io, Lincoln Lynn, va tutto bene? Sto benone! Mi sono solo slugata la caviglia Qualcuno, per favore, può spiegarmi cosa accidenti sta succedendo? Sì, vorrei tanto saperlo anch'io È tutta colpa mia, mamma Non volevo giocare a football Perciò ho convinto Lynn a giocare al posto mio Che insolenza, ragazzi! È inaccettabile! Cura bene la caviglia Ti voglio nella mia squadra l'anno prossimo Ciao, amico! Clyde! Hai trovato la bici? Non proprio io, l'hanno trovata i miei Il contenitore però non l'hanno trovato È fantastico! Forse faccio in tempo a riportarla a Lynn Prima che perda la gara e me la faccia pagare Lane Loud! Vincitrice della Coppa d'Aro! Falle ciao! Hai vinto! Ma è grandioso! Ehi, anch'io ho una bella notizia Ecco la tua bici Puoi tenerla Preferisco questa adesso È una bici da paura Mi vai football? Io sarò il quarterback E che ne direste? Di qualcosa di meno pericoloso? Vinta! Numeri uno! Ora posso sganciare due bombe? Papà! Avremo bisogno di quell'ottura lavandini di nuovo! Pupacciola! Questo sì che è appetitoso! E anche hai trovato un ottimo pettegolezzo su Lola Ehi, Lincoln Cos'è più divertente di un profumo sopravento, secondo te? Una puzzetta? Sotto coperta! Stacci dentro! Che ne diresti se aggiungessimo anche una bella anguria? Sì! A me piace Blaine Scommetto che può sollevare 135 chili Forse anche 136 Blaine, ma se al loro primo appuntamento era in infradito Assurdo e inguardante A rappresentare il Royal Boots Alla finale mondiale di Bob Lynn e Lisa Loud! Ale! Ferma questo coso! Lynn! Un brutissimo presente, Lincoln Ragazzi, mi serve un altro rotolo! Ottima ricezione! Fatti da parte! Ci penso io Devi sempre usare le gambe, non la schiena Guarda! Siamo in uno spazio stretto Non è che sia un difetto A casa dei Loud Dei Loud Salta, scarsa, fatti strada Così ci stimo bene A casa dei Loud Dei Loud Ragazzi, mochi, dimocato Gavi che ha mercato usato Parla fila Grazie Al prossimo